Grazie a tutti. Grazie a voi per l'invito, grazie al Comitato Arcighei di Cosenza, soprattutto per il mirabile lavoro che sta facendo sui territori. Un territorio, quello di Cosenza, molto complesso, dove da quello che so oggi è la prima volta che si affrontano tematiche come quelle relative al transessualismo. Da diversi punti di vista, quello dell'incontro di studi di oggi sarà un approccio a tutto tondo. Io mi occuperò della parte giuridica, gli altri relatori si occuperanno delle componenti sociologiche, psicologiche e anche quelle relative alla tutela associazionistica, perché l'associazionismo attivo in questi anni sta facendo tanto per il benessere delle persone transessuali. Guardi, era il primo passo che affronta una persona a livello legale per il cambiamento, anzi per la riattribuzione a livello legale. Qual è? Qual è la prima priorità? Allora, è un percorso quello legale che può prendere diciamo svariate strade, dipende dalla persona transessuale, dall'intimo sentire della persona transessuale, perché oggi ci sono ragazze transessuali M2F, quindi nate biologicamente uomo, ma che transitano e vogliono appunto diventare donna, ma ci sono anche ragazzi F2M, il transessualismo maschile del quale si parla ancora poco e anche in maniera confusa, ci sono tante ragazze nate donne che poi decidono di transitare e diventare uomini. L'approccio giuridico, il percorso giuridico è abbastanza complesso, dipende oggi grazie alla giurisprudenza, agli approdi che la giurisprudenza più illuminata è pervenuta, grazie alla sentenza 15.138 del 2015 della Corte di Cassazione, oggi per fortuna non si interpreta più in maniera restrittiva la legge sul cambio di sesso, la legge 164 dell'82, ma le persone transessuali che non avvertono nessuna conflittualità con i propri organi genitali di nascita possono tranquillamente adire il giudice e ottenere la riattribuzione anagrafica degli atti di nascita, quindi proiettare la propria identità di genere, di elezione, quindi di scelta, nel sociale auspicando ad ottenere un'interazione sociale piena, consapevole e soprattutto rispettosa da parte della collettività. Io questo credo sia fondamentale, purtroppo abbiamo dovuto interpretare per circa 30 anni la legge sul cambio di sesso in maniera restrittiva. Come dirò oggi nel convegno, grazie al decreto legislativo 150 del 2011, la legge sul cambio di sesso è mutata anche in un inciso molto importante, nel senso che non richiede più l'accertamento dell'avvenuta operazione di cambio di sesso, un intervento chirurgico molto stringente, ma consente a determinate condizioni alla persona transessuale di mutare le proprie generalità anagrafiche, quindi il diritto pieno alla propria identità personale. L'identità personale, parlavi giustamente prima di diritti umani, la Corte Europea dei Diritti Umani, ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 14 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, ha statuito proprio questo, cioè che la persona transessuale ha diritto pieno alla tutela della propria identità di genere, della propria identità d'elezione. Questo anche in piena coerenza con il dettato costituzionale, l'articolo 32 della nostra Costituzione italiana tutela la salute. La salute è da intendere però non semplicemente come salute fisica, ma anche come tutte quelle componenti del benessere psicofisico della persona transessuale. La persona transessuale ha diritto di strutturare la propria salute, il proprio benessere psicofisico, in primis riconoscendosi allo specchio, in un involucro corporeo finalmente coerente con la propria anima. Tra l'altro, quello che molti non sanno, è che comunque chi è una persona transgender affronta un percorso, che è quello della vita reale. Quindi come si fa, io mi domando, ad affrontare un percorso se i documenti sono al maschile o al femminile, in base a una persona F2M o M2F, e poi comunque perché ci deve essere l'obbligo dell'intervento? Non penso che definisca gli attributi, il fatto di essere uomo o donna, cioè il sentire è qualcosa di totalmente diverso. Assolutamente sì. Non è un caso che il concetto di identità di genere si compone a tre componenti. Il corpo, l'autopercezione ed il ruolo sociale. È fondamentale l'autopercezione della persona transessuale. Se la persona transessuale non si percepisce in maniera coerente con il proprio sentire, sente proprio l'esigenza appunto di riportare ad armonia il proprio corpo. Il ruolo sociale di cui parlavi tu, la difficoltà che la persona transessuale incontra nell'interazione quotidiana, nella società, ma soprattutto perché oggi ancora è difficilissimo, è molto complicato. C'è proprio uno stilicidio silenzioso del diritto al lavoro delle persone transessuali. Purtroppo i dati Eurobarometro ci consegna il transessualismo come una delle cause ancora stringenti, come fattore di non integrazione, di non inclusione all'interno del mondo del lavoro. Tanto che addirittura non si parla di mera discriminazione nei confronti delle persone transessuali per trovare lavoro, ma addirittura di vera e propria esclusione. Quindi la sensibilizzazione, eventi come questi, il lavoro dei comitati sui territori, quello che stanno facendo i ragazzi di Arcighe e Cosenza, io credo che rappresenti uno un po' come la favola del mago di Oz, quel sentiero pieno di mattoncini dorati. Ciascuno di noi, tanto che si occupi di associazionismo, tanto che si occupi nella propria professione, io come avvocato, prima ha intervistato la vicepresente nazionale dell'Aiga, la collega amica Aurelia Zicaro, ciascuno di noi, il proprio ruolo che ha nella società, può strutturare, deve strutturare, dei binari virtuosi di inclusione e di accoglienza. Io credo che oggi l'associazionismo abbia un compito tanto difficile, ma anche molto nobile, cioè quello di consegnare alle future generazioni, in questo caso di persone LGBT, penso alle persone LGBT calabresi, penso al territorio dal quale provengo, quello lucano, di consegnare delle tè, dei territori molto più accoglienti. Dobbiamo costruire tutti quanti insieme una civiltà che riscopra la tenerezza e non la diffidenza verso l'altro. Morena Ravola, io ti ringrazio, però vorrei sapere dei riferimenti per poterti trovare, chiunque volesse appunto trovarti e cercarti, per chiederti, per domandarti e soprattutto per rivolgersi a te in quanto professionista dei diritti. Assolutamente sì, allora potete trovarmi su Facebook, Morena Rapolla, oppure potete trovarmi anche su internet, basta inserire Morena Rapolla, io sono integrata all'interno dello studio legale Pipponzi, quindi lì ci sono mail riferimento, e comunque la mia mail è Morena Rapolla, tutto minuscolo, tutto attaccato, chiocciola, libero.it. Per chiunque avesse bisogno appunto della tutela, per diciamo strutturare una tutela virtuosa dei propri diritti, io sono a vostra disposizione. Grazie ancora, Liberi TV. Grazie.